Ciao ragazzi vi ricordiamo l'appuntamento mercoledì con lo speciale dove vai stasera ci saranno tanti ospiti stasera qui però per voi mercoledì mi raccomando Coro Music Fest 2023 organizzato dalla città di Corigliano Rossano ragazzi noi ci siamo l'estate sintonizzati su canale 18 Telea1 a mercoledì 14.40 Telea1 dove vai?